Eugenio di Rienzo che insegna a storia moderna la sapienza di Roma ha scritto questa biografia di Ciano, bella devo dire, bella controversa perché lui dà un ritratto sostanzialmente negativo di quest'uomo che dipinge come valoroso combattente, ardimentoso pilota e bombardieri, però dal punto di vista umano prima ancora che politico, fatuo. Ora la storia è quella della politica estera italiana di cui Ciano era il ministro per molto tempo, ma le pagine memorabili di questo libro sono le ultime 100-150 dove si racconta il declino, perché quando Ciano firma l'ordine del giorno famoso che mette Mussolini in minoranza e lo priva del comando delle forze armate, forse non si rende nemmeno tanto bene conto e colui altri di quale guaio stavano combinando, che cioè stavano facendo crollare il fascismo e il duce e che il re Vittorio Emanuele III si sarebbe ripreso tutti i comandi. Da quel momento comincia la sua sventura e comincia una serie di mosse, una più goffa dell'altra, che gli attirano le inimicizie di tutti. Sentite per esempio quello che diceva Hitler di lui. Il conte Ciano dovrà essere impiccato qui in Germania, pagare con la vita il quadruplice tradimento della patria, del fascismo, dell'alleanza, della famiglia. Aveva contro anche Rachele, la moglie legittima di Mussolini, la quale Rachele lo detestava, detestava suo genero perché Ciano era il marito di Edda, sua figlia. È tutta una tragedia anche familiare, il che ricorda certe scene all'interno della reggia degli Atridi nella tragedia greca. Essa reclamava implacabilmente la pena di morte per lui perché aveva tradito il suocero e la famiglia. Un senso da tribù romagnola, scrive l'autore. Aveva contro Claretta. Oltre alla moglie aveva contro anche l'amante, Claretta Petacci, l'amante del Duce, che lo riteneva, lo scrive a Mussolini, uno dei primi responsabili della tua tragedia e di quel massone venduto l'ercio di Badoglio. È stato Ciano, uno dei maggiori investigatori del complotto, eccetera, eccetera. E aveva contro tutti. Aveva contro i fanatici che si erano messi con Mussolini dopo la caduta nella neonata breve e ingloriosa Repubblica Sociale. Insomma, il Duce combattuto tra gli affetti familiari perché in fondo quello era il padre dei suoi nipoti e le necessità politiche e le pressioni forti dalle quali era circondato in famiglia e politicamente decise alla fine di farlo fucilare a Verona. E così si concluse la vicenda di quest'uomo per il quale Mussolini ebbe solo le parole finali a cadavere caldo, si può dire quando disse è caduto in piedi come deve cadere un vero fascista.